Droni per controllare lo stato di salute delle sequoie giganti, in particolare quelle che potrebbero essere state danneggiate dalla siccità, grazie ad una partnership tra la Parrot e l'Università di Berkeley, saranno utilizzati per controllare lo stato di salute delle sequoie giganti americane, in particolare quelle che potrebbero essere state danneggiate dalla siccità. Prima di ciò, per ottenere informazioni, i ricercatori erano costritti a scalare personalmente gli alberi. Non si tratta di un risparmio prezioso solamente in termini di tempo, in quanto la scalata di una sequoia risulta un'impresa piuttosto pericolosa.